Ciao a tutte ragazze, bentornate! Oggi Nell'Art Tutorial è ispirato alle unghie peluse o anche chiamate Fazzi Velvet Nails. Seguite il video tutorial per capire tutto il procedimento e come si fa questa Nell'Art. Il materiale che andrò ad utilizzare sarà un barattolo di Crushed Velvet Flock, che sarebbe la polvere Fozzi, uno smalto simile al colore della polvere e infine un pennello a ventaglio. Dopo aver applicato la mia base trasparente, come al solito, ho applicato uno smalto verde su tutta l'unghia e senza lasciarlo asciugare, ho riposto un po' di polvere Fozzi sul foglio di resma e sono andata a infingere il dito sulla polvere. Ho rimosso l'eccesso con un pennello a ventaglio in modo che la polvere non venga via e dopodiché ho fissato un attimino il bordo dell'unghia con uno smalto trasparente. Il risultato finale della Nell'Art sarà questo. Fatemi sapere, come al solito, cosa ne pensate. Ripeto, una Nell'Art davvero stravagante e diversa dal solito. Io vi rimando al prossimo tutorial. Se vi va, condividete questo video su Facebook o aggiungetelo nei preferiti. Un bacione a tutte e al prossimo tutorial. Ciao! Ciao! Ciao!